I diritti negati dei migranti che arrivano dal mare, ma anche i diritti negati di chi è ucciso in circostanze ancora non chiarite nei paesi che si affacciano sulle coste del Mediterraneo, come Giulio Regeni, il cui caso è ancora aperto, il suo avvocato Alessandra Ballerini sarà in videocollegamento alla tavola rotonda della prima serata degli incontri del Mediterraneo, giovedì 21 marzo al centro della Pesa di Riccione. Saranno tre giornate di dibattiti, incontri, presentazioni di libri e documentari per fare il punto e cercare di guardare oltre le notizie spesso superficiali che circolano in rete e nei media. Tanti gli ospiti presenti, tra cui Leonardo Frisari, chirurgo ed operatore di Medici Senza Frontiere, Roberto Zichitella di Radio Tremondo, Enzo Infantino della rete Comuni Solidali, Giacomo Pacassoni, il medico riminese volontario imbarcato sulla Open Arms, e Marco Minniti, che presenterà il suo ultimo libro sabato 23 marzo. Ad aprire il festival, ieri sera, un incontro in anteprima con padre Alex Zanotelli, dal titolo Costruire ponti e non muri, organizzato in collaborazione con Missio Rimini. Io penso che la responsabilità che noi adulti abbiamo è, prima di tutto, la grave responsabilità di aver creato questo disastro ecologico per cui noi presentiamo ai giovani, a questa generazione, un mondo malato. Ma la responsabilità che abbiamo diventa ancora più grave in questo, nel senso che noi dobbiamo fare di tutto per aiutare questi giovani, questa generazione, a capire che ha un'importanza fondamentale. Toccherà a questa generazione decidere in fondo se Homo sapiens potrà sopravvivere su questo pianeta. Ecco perché è importante avere fiducia in questi ragazzi, parlare a loro. E' inutile parlare agli adulti, il disastro, la frittata, noi l'abbiamo già fatta. Noi dobbiamo solo chiedere perdono a questi ragazzi e aiutarli a capire che loro in questo momento devono prendere le redi e cambiare tutto, perché si tratta davvero di ripensare tutto.